Vedremo, andando avanti con i tutorial strutturali, che spesso in Grasshover si creano definizioni così imponenti che è necessario organizzare geraticamente e in modo ordinato la definizione. In questo ci viene in aiuto il comando gruppo, che ci consente appunto di raggruppare diversi comandi in modo di poterli gestire più o meno come se fosse un solo elemento. Il comando ci fornisce inoltre anche un aiuto visuale, in quanto il contenuto di lo stesso gruppo viene rappresentato all'interno di un contenitore monocolore e facilmente individuabile. Oltre al comando gruppo, nel prossimo tutorial parleremo dei widgets, che sono dei piccoli ma fondamentali aiuti alla progettazione, dei piccoli menu che, quando attivati, ci consentono di amplificare la velocità di scrittura dell'algoritmo. Il primo di essi è il comando Compass, che ci consente, se ci perdiamo all'interno dello spazio di lavoro, di individuare in quale zone si trovi la definizione. Poi abbiamo il comando Align, che permette di allineare e ordinare la definizione anche da un punto di vista visivo. Il comando Marco, che ci fornisce una piccola lista di comande, tra cui, secondo il programma e il nostro stile di lavoro, dovrebbe essere il prossimo comando che utilizzeremo. Il comando Profiler, che ci indica il tempo di calcolo di una determinata componente. E infine il comando Message Balloon, che invece ci mostra le comunicazioni di errore o di avvertimento che Grassoper ci vuole mandare relativamente al comando, sopra il quale l'icona a fumetto appare. Buongiorno a tutti, con questo tutorial cominceremo ad entrare nel vivo della progettazione con Grassoper. Andiamo ad introdurre alcuni strumenti essenziali per la progettazione, che sono l'editor di gruppi, l'editor di cluster e degli strumenti essenziali chiamati widgets. Benissimo. Cominciamo a creare la nostra piccola prima definizione. Possiamo partire creando dei punti. Quindi spostiamo Grassoper sulla sinistra. Quindi per spostarlo andiamo a cliccare sulla barra del titolo, trascinando l'icona, spostandola tutto verso sinistra, come se la stessimo lanciando verso sinistra, ed ecco che la viewport viene massimizzata a metà schermo. Benissimo. Quello che bisogna fare è creare dei punti. Per creare un punto, essenzialmente bisogna andare su Vettori, Point, quindi macrocategoria Vettori, sotto categoria Points, con Strat Point, che ci permette di costruire un punto a partire da tre coordinate. Come fornire al software queste coordinate? Per farlo, e lo analizzeremo anche più avanti, ci sono sotto il menu Parametro, sotto la sottocategoria input degli slider, cioè number slider, che essenzialmente sono dei contenitori di un intervallo di valori e il valore attribuito allo slider è essenzialmente quello che vediamo comparire, visualizzato all'interno appunto dello slider stesso. chiaramente possiamo associare a questo valore diverse tipologie di numeri, quindi questo si definisce all'interno dello slider type, infatti possiamo dire, possiamo scegliere tra numero con la virgola o numero intero, numero dispari e numero pari. in questo caso quello che a noi serve è il numero intero, quindi scegliamo un numero intero e definiamo gli intervalli di variazione del valore contenuto dallo slider, questo valore deve andare tra un minimo di 0 e un massimo di 10, chiaramente si possono attribuire anche numeri negativi, l'importante è che il massimo sia maggiore del minimo. il valore quindi sarà compreso tra 0 e 10, quindi muovendoci all'interno dello slider potremo variare il valore contenuto all'interno di questo slider tra 0 e 10. benissimo, andiamo a collegare il nostro slider con la x, vediamo che subito lo slider cambia nome e assume il nome dell'input dove arriva, praticamente ogni definizione si legge da sinistra a destra, quindi questo slider viene dall'output relativo a questo slider, viene collegato con l'input relativo a questa componente, per cui quello che entrerà in x come input sarà 3, infatti se stazioniamo col mouse sulla x vediamo che ci dice che il valore relativo a questa parte di input della componente è 3, quindi significa che il nostro punto sarà posizionato, per come adesso la situazione, nel punto avente x pari a 3, y pari a 0 e z pari a 0. sposto la viewport di Grasshopper sulla destra per farvi vedere che questo corrisponde alla realtà, nel senso che ho liberato in questo modo, ho messo in vista la terna cartesiana assoluta, cioè quindi quel sistema di riferimento assoluto e quindi vediamo che in questo riferimento se la griglia vale 1, il nostro punto si trova esattamente nel punto con x pari a 3, y pari a 0 e z pari a 0 perché il punto giace nel piano x, y, quindi dove z è pari a 0. Benissimo. Quindi copiamo effettuando ctrl c, ctrl v, i slider due volte, quindi di nuovo ctrl v, in questo modo potremo far variare il punto in direzione y e in direzione z. Vediamo quindi il nostro punto al variare dei parametri. Quindi questo è il nostro primo punto che abbiamo creato. Adesso andiamo essenzialmente a copiare tutta questa parte di definizione, quindi ctrl c, ctrl v, ctrl c, ctrl v. Questo perché vogliamo creare altri punti e lo facciamo per tre volte, quindi in modo da ottenere tre punti. Benissimo. Adesso andiamo a dargli un nome, in modo che in un secondo tempo potremo ricordarci cosa stiamo facendo. Quindi nella prima zona andiamo a creare un pannello, scusate ho fatto velocemente, andiamo in input, panel. Il pannello non è altro che un post-it, può essere letto così ma vedremo che ha moltissime altre funzioni. Essenzialmente nel pannello scriviamo il contenuto di quello che stiamo facendo collegando questi parametri, questi slider. quindi io sto realizzando il primo punto, in questa zona sto realizzando il primo punto, ctrl c, ctrl v, ctrl c, ctrl v. E di nuovo ctrl c, ctrl v, in modo che abbiamo i pannelli posizionati correttamente, adesso andiamo a modificare il contenuto modificando soltanto la dicitura relativa al numero, quindi realizziamo primo, realizziamo secondo punto, realizziamo terzo punto e realizziamo quarto punto. molto bene. Avendo quattro punti, chiaramente nello schermo ne vediamo uno, perché? Perché abbiamo copiato sempre un punto con gli stessi valori di x, y, z, quindi essenzialmente in questo punto ci saranno quattro punti più piccoli che vanno a coincidere. Per separarli basta spostare le coordinate. Vediamo come stiamo staccando i diversi punti. Molto bene. Abbiamo quattro punti dislocati in modo casuale nello spazio. Quello che possiamo fare ora è creare una superficie base, surface, andiamo su freeform, four point surface, significa che ci andrà a creare una superficie a partire da quattro punti, quindi che in input nella parte sinistra della componente avremo quattro punti da inserire e in output ci darà una superficie. Quindi andiamo a collegare quattro punti con la nostra componente. Vedete, ho collegato il pannello a C e la componente si è naturalmente colorata di rosso ad indicarmi la presenza di un errore concettuale, cioè ho collegato, invece di collegare un punto, ho collegato un pannello giallo. Grassoper ha anche un'intelligenza tale che in alcuni casi se noi colleghiamo un oggetto a quello che dovrebbe essere un punto, cerca di interpretarlo come tale, però abbiamo collegato una scritta a un punto e questo non è possibile, non riesce neanche a trovare un'interpretazione leggibile della definizione, quindi ce lo colorerà di rosso. Per risolverlo che cosa facciamo? Clicchiamo sulla parte dell'output del punto che vogliamo andare a sostituire a quella che abbiamo collegato con la linea e andiamo a collegarci con il punto C. Adesso vediamo che prima cosa ci diventa sempre grigio, quindi grigio chiaro, questo significa che tutto sta procedendo correttamente. Seconda cosa, nella viewport possiamo notare che essenzialmente si inizia a creare una superficie, una superficie che per il momento collega solo tre punti. Adesso colleghiamo il quarto in modo da avere una superficie che colleghi tutti e quattro i punti. molto bene. Iniziamo quindi a ragionare in termini di gruppi. Che cosa significa lavorare con dei gruppi? Significa creare delle zone che sono tra loro collegate, che possono essere mosse tutte insieme e che quindi hanno un legame fisico di correlazione. Essenzialmente quello che facciamo è andare a selezionare una zona di definizione, in particolare io selezionerei la zona relativa al primo punto, andare su Edit e creare un gruppo. Group. Quindi essenzialmente ci viene creato un gruppo. Un gruppo che può essere di diverse forme e il passaggio tra una forma e l'altra viene effettuato con un doppio clic sull'area libera dai componenti all'interno del gruppo. Quindi se faccio il doppio clic avrò questo rettangolo squadrato, se faccio il doppio clic avrò una sorta di macchia, se faccio il doppio clic avrò un rettangolo dai bordi arrotondati. Se volessi togliere questo gruppo, riseleziono tutti i componenti e gli do in Edit Ungroup. Quindi è buona norma creare dei gruppetti che mi possano andare ad aiutare nella lettura successiva della definizione. Quindi seleziono questo gruppo Edit Group. Eccolo qua. Ci sono diverse opzioni sempre relative al gruppo a cui si accede cliccando con il pulsante destro del mouse sempre sulla zona vuota all'interno del gruppo. Quindi possiamo decidere in prima cosa come appare il gruppo con le opzioni che vi ho fatto vedere precedentemente. Quindi si possono gestire anche da questo menu contestuale. Si possono selezionare tutti gli oggetti del gruppo, si può togliere il gruppo, si può aggiungere un oggetto al gruppo, si può rimuovere un oggetto dal gruppo. Si può cambiare il colore del gruppo, c'è anche questo comando che ricorda quello di Photoshop. da te ma non mi cambia il colore del gruppo. Devo andare a capire per quale motivo. eccolo qua. Avevo l'Alfa Channel basso. Quindi si vedevano poco queste variazioni. di colore. E essenzialmente che cosa posso far variare? Posso far variare il contenuto e la linea esterna. quindi vi lascio un po' giocare con lo studio di questi colori. Ci sono anche due maschere qui sulla sinistra. Comunque sapete che dal menu contestuale sulla destra, a cui si accede cliccando con il destro del mouse, essenzialmente avremo la possibilità di modificare il colore del gruppo del gruppo. Quindi procediamo creando velocemente i gruppi di tutti i punti di partenza. edit 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 group benissimo a questo punto quello che possiamo fare è essenzialmente andare a vedere un altro concetto molto importante che è quello di cluster cluster è una sorta di gruppo nel termine che unisce diverse componenti, diversi parametri il concetto però che una volta che creiamo il cluster ehm noi blindiamo il gruppo non lo rendiamo modificabile ehm e possiamo vederne soltanto gli effetti quindi se andiamo a selezionare immaginiamo il primo punto e a renderlo un cluster ehm vediamo che quello che essenzialmente ci rimane è una sola componente che sostituisce tutte quelle all'interno del cluster che ha come output ehm il risultato della serie di componenti precedenti quindi essenzialmente ehm lo possiamo usare quando per esempio vogliamo non mostrare una nostra definizione perchè magari temiamo che sia copiata ehm che venga appunto copiata per cui decidiamo di ehm cedere la nostra definizione ma non ehm renderla modificabile e quindi ehm il beneficiario potrà ehm sfruttare soltanto ehm il risultato ma non la definizione in sé quindi non potrà declinarla in altri modi e questa è un diciamo è un un'opzione abbastanza importante benissimo abbiamo visto il concetto di gruppo e il concetto di cluster adesso quello che ci interessa vedere è ehm la serie di comandi che servono per migliorare il workflow che vengono chiamati widgets allora ehm i widgets vengono contenuti nel menu display e l'ultima voce si chiama canvas widgets ehm per una cosa assicuratevi che tutti siano accesi cioè tutti siano circondati da questo quadratino io ce l'ho tutti accesi e adesso andiamo a vedere ehm che cosa ehm ci permettono di fare partiamo dal primo display widgets compass essenzialmente il compasso è questa ehm questa bussola che si trova qui sulla parte sinistra questa ci sarà molto utile quando avremo definizioni molto importanti perché ci fa ci permette in qualsiasi momento di ritrovare dov'è la nostra definizione o le parti di essa vedete che ce la indica in qualsiasi momento poi abbiamo display canvas widgets align align è un comando molto importante per quanto riguarda ehm la diciamo ehm la gestione di ehm l'allineamento la gestione dell'ordine della definizione allora adesso io mi trovo all'interno di un gruppo e voglio selezionare i componenti del gruppo ma senza selezionare tutto il gruppo quindi vedete che se io eh selezionassi con eh tramite il mouse eh mi viene selezionato anche il gruppo stesso io non voglio che ciò avvenga eh quindi che cosa faccio vado a pigiare shift e eh selezionare i componenti che ehm che essenzialmente eh intendo allineare quello che mi compare sopra le componenti adesso che ne ho selezionate tre è il comando align quindi posso allineare eh verso diciamo il centro posso allineare a destra e posso allineare a sinistra i componenti vedete che comunque si ottiene eh eh un risultato molto più preciso e convincente vediamo se selezionassi anche il punto e gli slider e eh usassi il menu align potrei creare dei problemi nel senso che adesso se allineassi questi componenti a sinistra vedete che otterrei una sovrapposizione che eh eh non è desiderata quindi bisogna stare attenti anche nel gestire eh questo strumento però può essere molto utile quando si hanno tante eh diciamo ehm tanti oggetti da allineare reciprocamente lo vedremo in particolare applicato nella parte relativa all'ottimizzazione eh 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 diciamo della definizione relativa alla struttura dello stadio nella parte strutturale andiamo avanti eh display widgets il terzo widget è interessantissimo si chiama Marco e che cosa fa? in base al nostro stile di progettazione quindi non siamo solo noi che studiamo il programma ma anche il programma che studia noi e cerca di intuire quale è il nostro stile di progettazione quali sono i comandi che più rispecchiano il nostro modo di lavorare ehm in più ehm collimando questi dati con le informazioni relative a ehm i comandi che abbiamo appena eseguito ci va a creare qui in basso a sinistra una lista di comandi che potrebbero essere i prossimi che sceglieremo quindi se faremo riferimento a questa lista essenzialmente se daremo un'occhiata ogni tanto a questa lista essenzialmente potremo trovare dei comandi che ehm a tutti gli effetti potrebbero tornarci utili e vi stupirete di quanto ehm spesso questo comando riesce ad anticipare le vostre mosse andiamo avanti display widgets profiler profiler essenzialmente che cosa va a fare va a creare eh sotto la componente eh un eh una stima dei tempi impiegati per calcolare quella componente chiaramente eh qui lo vediamo soltanto qui sotto il comando cluster ma questo ci basta significa che per fare il cluster per creare questo cluster ehm essenzialmente il il nostro calcolatore ha speso 7 millisecondi significa che sono il 96% del tempo impiegato ad ad appunto ehm ad compiere l'intera eh l'intera definizione questo su questa piccola definizione ha poco significato ma immaginate su una grande definizione riuscite a capire qual è la componente che ehm che deve essere migliorata che deve essere sostituita a volte eh perché eh va a ad abbassare troppo le prestazioni complessive eh del nostro calcolatore quindi eh quando vedete la comparsa di questo ehm di questo ehm di questo ehm sapete che prima cosa ehm quello è uno dei comandi più onerosi quindi mi sembra che il limite sia 4.000 secondi o 5.000 secondi quelli che impiegano i comandi che impiegano meno di 5.000 secondi non vengono mostrati però quelli che impiegano più ehm sì quindi vedete questa la comparsa di questo fumetto soltanto nel quando il tempo di realizzazione di esecuzione è ehm troppo alto troppo alto diciamo è alto rispetto alla media ehm vediamo l'ultimo l'ultimo è un display widgets message balloon essenzialmente è un messaggio che ci compare quando si compie un errore nella progettazione rifacciamo l'errore che avevo fatto casualmente prima cioè colleghiamo ehm questo ehm questo ehm ehm panel quindi un ehm un insieme di lettere essenzialmente all'input che accetterebbe i punti quindi vediamo che non solo la componente ci è diventata rossa ma ha creato ma si è creato anche un messaggino qui in alto a destra questo messaggino è utilissimo perché vi fa capire che cosa dove è stato l'errore vediamo un po' ci dice la conversione è fallita perché tu mi hai inserito in input ehm un testo e io invece volevo un punto quindi questo è essenzialmente il concetto e ehm quindi come risolverlo vai a mettere invece del testo metti ehm una terna di coordinate che mi va a definire un punto essenzialmente oppure mi ci colleghi un punto ma non puoi darmi delle lettere perché io programma non riesco a ehm trasformare queste lettere in punto in nessun modo in punto se ehm magari avesse dato un vettore che è definibile come una terna di coordinate ehm e quindi a tutti gli effetti somiglia moltissimo a un punto Grassoper è così intelligente che avrebbe ehm praticamente trasformato quel vettore in un punto e quindi ehm essenzialmente questo ehm questa componente sarebbe apparsa probabilmente arancione perché ci dice guarda io sono riuscito a calcolarlo perché eh però ho fatto una un'approssimazione cioè ho approssimato un vettore approssimato un punto ehm a un vettore nel senso avevo un vettore e l'ho trasformato in un punto ma l'ho fatto ehm in modo autonomo quindi eh darà un messaggio di avvertimento ehm però continuerà ad effettuare il calcolo invece se la componente è rossa non effettuerà per niente il calcolo infatti il risultato se stazioniamo col mouse sulla S è ehm un valore e questo valore è null quindi è un insieme vuoto in questo grande tutorial abbiamo analizzato alcuni dei più importanti comandi di Grassoper la loro importanza non risiede tanto nell'avanzamento concettuale che trasferiscono alla definizione quanto alla capacità di aiutarci a velocizzare e ottimizzare il flusso di lavoro rendendolo fluido e permettendoci di focalizzare l'attenzione sugli aspetti che veramente ci interessano vi stupirete infatti di quante volte lo strumento Marco riuscirà ad anticipare le vostre mosse o di quante volte dovete ritrovare la definizione tramite la bussola o ancora di quante volte studierete le varie sezioni della definizione con lo strumento profiler con l'obiettivo di individuare delle parti eccessivamente onerose dal punto di vista di calcolo e quindi la possibilità di calcolo e la possibilità di calcolo